Che vuoi? Gossip Uomini e Donne, la scelta di Sara, laddio finale dopo il gesto clamoroso Uomini e Donne Gossip News Oggi, arriva la scelta finale di Sara, ecco le ultimissime. A cancelletto Uomini e Donne stanno per arrivare delle nuove puntate del Trono Classico che si preannunciano ricchissime di colpi di scena e di clamorosi addi che potrebbero avere delle ripercussioni importanti sul percorro di Sara Affifella, la tronista in carica che sta portando a termine il suo percorso in trasmissione e che al più presto giungerà al termine della sua avventura nel programma tv di Maria De Filippi. Ultimissime Uomini e Donne, la scelta di Sara tra addi e colpi di scena. Le ultimissime di Gossip su Uomini e Donne rivelano che Sara ha scelto di tornare da Lorenzo per rimettere in sesto lalroo conoscenza dopo che il corteggiatore aveva scelto di andare via e di continuare a corteggiare solo Niloufar. Al tempo stesso, però, lesterna tra Sara e Lorenzo ha scatenato lira degli altri corteggiatori presenti in studio, i quali si sono scagliati a loro volta contro la tronista tra cui Luigi che proprio nel corso della puntata che vedremo oggi pomeriggio su Canale 5 ha annunciato di voler andare via, aggiungendo che ormai per lui fosse chiaro il fatto che Sara avesse già scelto Lorenzo. Ma i colpi di scena non mancano mai e proprio nel corso dellultima registrazione di Uediche che è stata ieri pomeriggio a Roma, abbiamo avuto modo di vedere che la bella Sara sia diveritata a sparigliare di nuovo tutte le carte in regola. Nel corso della puntata, infatti, sono state trasmesse le nuove esterne tra cui quella tra Sara e Luigi, la tronista, infatti, ha deciso di andare a riprenderselo dopo lannuncio del corteggiatore di voler andare via dalla trasmissione. Arriva la scelta finale di Sara a Fifella. Ebbene tra Luigi e Sara cè stato un colpo di scena clamoroso che ha lasciato tutti senza parole, i due, infatti, si sono scambiati un bacio che ha mandato in tilt gli altri due pretendenti della tronista, la quale a questo punto si è trovata a fare i conti con lennesimo colpo di scena. Sì, perché questa volta sono stati proprio Lorenzo e Nicolò a decidere di andare via dal programma, stufi dellesternac avevano appena visto e soprattutto dellatteggiamento di Sara nei confronti di Luigi. Insomma la scelta della tronista napoletana diventa sempre più intricata e irta di nuovi colpi di scena, anche se ormai manca davvero poco al momento finale. La prossima settimana, infatti, si vocifera che debba essere registrata la scelta di Nicolò dopodiché dovrebbe toccare a Sara a maturare la sua scelta finale in trasmissione. Cancelletto Uomini e Donne Anticipazioni Cancelletto Uomini e Donne Oggi. Ciao!